Comunque adesso facciamo questo giochino divertentissimo di come mi comporto Eccoci, eccoci, eccoci Come mi comporto se, se, allora scopri che la tua amica è stata tradita Eh questo è un classicone, abbiamo parlato ogni volta La mia amica è stata tradita, la fidanzato tu scopri per vie terze che la tua amica è stata tradita Allora aggiungo un po' per creare ancora più complicazioni Perché se quello là non lo conosci, è ovvio che la prima cosa che fai lo vai a dire Ah no, certo Criamo una complicazione Hai creato un rapporto con questa persona C'è una persona comunque, cioè come se fosse, non so, noi con il tuo fidanzato I nostri fidanzati, diciamo, comunque Allora, io ci ho ragionato tantissimo su questa cosa, che tra l'altro non mi è mai capitata in realtà No Grazie a Dio Grazie a Dio Ho giusto un sacco di corna Sì, davvero Proprio corna Siamo tutte giunte, secondo me, alla conclusione che chiami Johnny e gli dici Johnny, o glielo dici tu, ti do 12 ore o glielo dico io E Johnny in me è il presuppone che provano a dire Cioè la discussione per me conclude qua Anche se non c'è un rapporto in realtà Perché vorrei che tu sia lui a dirlo Perché io comunque non lo faccio per tutelare La cosa non è, io voglio tutelare te O meglio, se sei mio amico voglio anche tutelare te, voglio darti la possibilità Se non ti conosco, sei un fidanzato che è strano, che non ho mai frequentato Non lo faccio per tutelare te, ma lo faccio per tutelare la mia amica In ogni caso O il rapporto, comunque ci tengo Esatto, quindi in ogni caso qualcuno lo tutelo E in ogni caso andrò da lui a dire Senti, 12 ore ma tipo lettera di minaccia Sì, sì, sì 12 ore e ormai questa cosa finisce ma non me ne frega niente Ma niente 12 ore dopo Ho spaccato il secondo, lo chiamo e dico Fratello mio Anzi no, perché lo saprei già Perché la mia amica mi chiamava veramente piangendo Capisco così Situazione si complica se Noi due siamo amiche e loro due sono amici A quel punto No, aspetta No, aspetta No, aspetta No, aspetta Noi due siamo amiche Io e la tipa Sì E i nostri fidanzati sono amici È lì è sbattissimo A quel punto io, se la mia amica tradisce Non lo dico al mio fidanzato No, ma a me non me ne frega niente neanche lì Cioè il mio fidanzato non c'entra un bel niente in questa cosa qua Non me ne frega niente se è il suo miglior amico È una roba Tra me e la mia amica In questo momento proprio il mio fidanzato lo mettono in taschino E io affronto il problema della mia amica E non è un problema del mio fidanzato Questo certo Però poi si complica ancora di più se Cioè il mio fidanzato lo sa E cosa fa con lui? Se lei non glielo vuole dire Eh no Certo Perché lei sta partendo dal presupposto che è la tua amica che l'ha tradito Non è più lui che ha tradito lei Capito? Allora facciamo con nomi non sono reali Esatto Luigi e Carla Ginevra E Ginevra sono fidanzati Io sono stramica di Ginevra E il mio fidanzato che si chiama Giacomo È stramico di Luigi Allora a questo punto La mia amica Ginevra tradisce Luigi E io che sono molto amica di Ginevra E il mio fidanzato che è molto amico di Luigi Sto zitta Io so questo addimento Non lo dico al mio fidanzato Perché il mio fidanzato in quanto il migliore amico Si attua la cosa che abbiamo detto prima a noi Quindi 12 ore ti chiamo Però io comunque voglio vittorare la mia amica Non ho voglia che poi se lei non glielo vuole dire Gli venga messo il pepe al culo Di dire Io non lo dico al mio fidanzato Però io parlo con la mia amica e le dico Sorella mia Diciamoglielo Non mettermi in questa situazione di schifo No no ma oltre che non mettermi Ma per te Cioè il discorso che facciamo prima Siamo umani per favore Hai fatto questa cosa Però anche se lei non glielo dice No io sarò zitta Credo che non mi metterei mai in mezzo a questa situazione Ma non dicendolo ovviamente al mio fidanzato Perché lo metterei lui in una situazione schifosa Quindi non ha senso Cioè piuttosto me lo tengo a me Perché in realtà la seconda roba è appunto Scopri che una tua amica ha tradito A prescindere dal fidanzato all'amico Scopri che una tua amica ha tradito Che cosa fai? Gli dico amore Io ti voglio un botto di bene Adesso chiami Apri il telefono E non lo fa E non lo fa Bella Allora Eh no raga Però c'è capitato un botto di volte E non lo fa Eh io muta Eh silenzio Cioè rispetto della tua scelta Non è che Eh no per quello Ti lascio Ti odio e non piango Per quello però dico Sei il mio fidanzato Poi Eh certo Silenzio Silenzio No no io dico Adesso registro Tu quando vorrei piange Perché X e Y Ti mando Ti mando la fattura Eh per forza La psicologa Ma è proprio chiaro Ma è proprio chiaro No però capito A quel punto non cambia niente Se poi il mio fidanzato Il miglior amico Io tutelerò la tua amica Sto zitta Non lo dico al mio fidanzato Per tutelare il mio fidanzato O si incazzerà con me Ma non si incazzerà mai Neanche così tanto Secondo me Perché dice va bene Ci sta Certo Invece Se Cosa Secondo me Molto più comune Forse Il tuo fidanzato Che è un gran coglione Sa che l'amico Ha tradito E te lo viene a dire a te Che sei la migliore amica Cosa fai E lui ti dice Ti prego Non lo dire Te lo giuro Cioè Devi giurare Che tu non lo direi mai Non lo direi mai Non lo direi mai Non lo direi mai Hai sbagliato Tu a dire Anche per me Se io dicesse il mio fidanzato Questa cosa Che scopro che il Ginevra Ha tradito Luigi Mi aspetto che lui lo vada a dire Io Mi sto prendendo la responsabilità Delle mie azioni E lui dice Mi hai messo in questa situazione qua Io adesso faccio la mia decisione Certo Non è che devo per forza Tutelare te E dire Ah no poverina Mia fidanzata No Cioè hai fatto tu La tua scelta E io adesso vado dal mio amico Perché gli faccio la mia Infatti io non me la prenderei Se lui non me lo volesse dire No neanche io per niente Anzi Vorrei E nel momento in cui lui me lo dice Perché ha fatto una cazzata Piuttosto Siccome comunque c'è anche mia fidanzata D'altra parte E voglio darlo Dico alla mia amica Amore Facciamo che te lo sto dicendo Perché sei tu E ti amo Ma facciamo che non esce Chi mi l'ha detto Mettiamola così Oppure uscirai In un momento in cui siamo un attimo più Vente fresca Allora l'altro giorno Fessimo stesse male No Raga manca vento Raga ascolta L'altro giorno Parliamo di Questa Sì Parliamo di Di questa coppia Così Di cui Tantissime persone Sanno delle corna Ok Ok No voi non le conosce Cioè Nessuno che è stretto a noi Ovviamente Cioè era Dimmi No 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 Dai su No raga dopo E E questa nostra amica Ci racconta di questa roba E ci dice Raga un po' sbatti Perché comunque Io sono amica di lei Cioè relativamente amica Non so cosa fare Perché mi dispiace che Perché lei viene Sì lei viene Corrificata Mi dispiace che lei Vada avanti in queste relazioni Di cui tra l'altro Cioè che tra l'altro Va avanti da un sacco E non so come fare Non so veramente come fare E noi Giustamente abbiamo detto Dai fatti cazzi tuoi Cioè nel senso Non è una tua amica È una persona Sì relativamente vicina a te Ma che semplicemente Conosci bene Cioè stai zitta Chi se ne frega E lei diceva No raga Perché a me è proprio Questa cosa Che lei si è ancora con lui Nonostante tutto questo Cioè proprio mi fa male Così Lei sta zitta un attimo E fa Sapete cosa potrei fare Le mando una lettera anonima No 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 vabbè No vabbè Però non puoi Non puoi Raga era straseria Raga scusate Immaginate la situazione No vabbè Dream done E poi Che possa per te Viola Arrivo mamma Non immaginate È successo Amo la lettera da Hogwarts La sorella di La sorella dell'ex Di questa nostra amica Ok La sorella dell'ex Ok Ok Ha ricevuto ai tempi Una lettera anonima In cui diceva Io non posso dirti chi sono Il tuo fidanzato ti ha tradito Vabbè ma siamo alla Vabbè ma Beautiful Veramente Si pensava anche Che lei Diceva O è uno stronzo X Che ci ha visti Non lo so Oppure è una mia amica Stretta Che Per situazioni scomode Come quelle di cui abbiamo parlato prima Non riuscì Non poteva dirmelo E quindi piuttosto cosa fai Oppure Oppure aggiungo un'opzione Una innamorata del mio fidanzato Che vuole farci lasciare Che quindi crea un po' di panico Per farci Lì genio Geniale Geniale Comunque io Per quanto sono pazza Io Prendo la lettera Vado alla polizia Vado alla polizia Faccio analizzare le impronte digitali Perché voglio assolutamente Sapere chi va Ma vi dico di più Al giorno d'oggi Ho visto un botto di gente su tiktok Si usano i profili fake Amo quella la polizia postale Però li becca La lettera Io non me la sento Si chiama la polizia postale Scusi Il mio fidanzato Mi ha tradito Mi dica chi è Per favore Me lo dica Ma non Con chi mi ha tradito Chi mi ha detto Chi mi ha detto No comunque Il discorso Ecco Tema Tema Ok Allora Siete in un posto X tradisce Y Tu conosci Y Quello che viene tradito Quindi Mi Cioè lo conosci Avete un bel rapporto Però non è che siete così amici Cioè non avete quella cosa Certo Quei doveri Quel girl code Diciamo Cosa fate? Lo andate a dire a lei Quello che viene tradito? No Anche io Anch'io Io non ho voglia di essere X Che lo va in giro a dire Ma più che altro No ma lei Cioè non ho voglia di essere Z Che è quella sentinella Non è questo di Togliersi responsabilità Cioè non è che a me frega qualcosa Anzi Un po' di egocentrismo Tutti ce l'abbiamo Quindi vogliamo essere un po' in mezzo Con lei Che ha svelato il mistero Non è quella la roba Se sei una persona Un po' ragionevole Capisci che Se quello o quella È una persona Di merda Prima o poi verrà fuori Quindi non è responsabilità mia In questo momento Mettere Zizzani È una cosa che Spero si scopra O spero di no Però Non c'entrano niente E poi non sai Magari lui il giorno dopo Glielo va a dire Tu hai fatto la spia Che c'è No sono d'accordo Tante dinamiche Che non conosci A meno che tu veramente Non abbia un ruolo importante Nella vita di quelle persone Ti fai i cazzi tuoi Sono d'accordo Ma non è omertà È proprio anche Umiltà E dire sai che c'è Io me ne levo Anche egoismo Cioè io non c'ho voglia Ma sì Non c'ho voglia Ma poi metti che No vabbè se li vedi In realtà no Però se lo sai Metti che poi non è vero Metti che Sì 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 Cioè no Ora voglio fare tipo Reverso Quindi siete voi Allora che siete stati traditi L'abbiamo abbastanza già trattato Da fidanzato L'abbiamo capito L'abbiamo detto Siete stati traditi Dalla vostra amica Ma tipo Cioè in amicizia O che lei si è fatta Al mio fidanzato È un trattamento In amicizia Tutto Quindi lei può Sì ovviamente Sempre tutte le circostanze Allora vabbè La tua amica ti ha tradito Vuol dire La tua amica ha parlato di me Di te malissimo Ha svelato un segreto Interiore della tua vita A chiunque Ha fatto la merda Oppure ha fatto la ultra merda E se Ha fatto se è stato autofinanzato Ok Come Ti chiama il giorno dopo Ok E te lo dice No Qual è la domanda Non me ne frega niente Che mi hai chiamato il giorno Non me ne frega Nulla Ma nulla Per me sei K.O Pulizia postale Sì 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 Morta DNA Sì Morta Punta a pubbitorio Omicidio Allora Morta Detto ciò Forse Fatica davvero Chiudo il rapporto No è che È la classica cosa Che ora Sono fuori Posso sparare la sentenza E dire per me Non esisti Non mi interessa Cioè sentenza Che figata Sparare le sentenze Poi mi succede Cavolo La mia migliore amica Comunque Non so Nina la conosco da otto anni Siamo sorelle da otto anni Cioè Vado Mi si pone un po' Più il dubbio Di dire subito Vabbè per me sei morta È ovvio che è terribile Sono d'accordo con te Cioè Così su due piedi Dico morta Se mi succede Poi effettivamente Non so bene Come reagisco Però tanto il dolore Che ti provoca Lei ha questo Molto di orgoglio Di quanto sei Irremovibile Cose così Che sono un po' Molto personali Detto ciò Il dolore Che ti provoca Un tradimento Di questo tipo Secondo me Non è anche paragonabile A quello del finanzato No no Dal fidanzato In qualche modo Quei rischi Non detti È come se Siamo talmente abituati A sentire queste cose Che non dico se te lo aspetti Assolutamente Però Ti senti anche molto più Tipo Ci sono tante persone Che hanno vissuto questa cosa Un tradimento di amicizia Di questo tipo È una roba che poche persone vivono E che tu non ti aspetti Da un'amicizia Un'amicizia si basa Su tantissimi altri valori A volte molto più grandi Di quelli di relazioni Forse c'è una stranzata Però Forse il fatto che Cioè con le amiche Con le tanto strette Cioè forse è una cazzata Non lo so Però È come se un po' Indirettamente Con quelle tanto strette Dico Fermi un po' Un patto di Rispetto eterno Non che col fidanzato Non debba essere così Perché rispetto C'è Però Comunque anche relazioniamo Come quando dici Fidanzati Vanno e vengono E le amicizia restano Poi è quello Hamler 2012 Però è vero Però è vero Laga Cioè comunque anche il fatto Di Il tradimento Molto spesso è Andare a letto Con un'altra persona O baciar un'altra persona Che Come dicevamo prima Non la puoi neanche tanto Cioè non lo so E comunque poi In realtà no Perché se il mio fidanzato Mi tradisce Perché si frequenta Con un'altra Per due mesi Mentre sta con me Comunque sei morto Amore Comunque vi giuro E ci sto male anche Mi faccio veramente fatica A pensare a queste cose Perché Penso anche Che qui Di ricollegarmi A quello che dicevamo prima Cioè Io non ho delle amicizie In questo momento Che potrebbero farmi Delle cose del genere Non lo sai mai Amore Amore Comunque tu Porca di quella miseria No però Quante volte Sentiamo storie di gruppi E diciamo Raga però loro sono batte Cioè A noi questa roba Non succederebbe mai Cioè loro fanno schifo Lo so amore Però hai sentito anche Cose di persone Tanto tanto Amore Non lo sai giuro Io non è che dico Però non lo sai Io mi fido Cioè io voglio essere di voi Cioè io voglio essere ottimista Cioè io voglio essere ottimista Vediamo il bello delle cose Sì però Nelle mie amiche questa cosa Non sentenziale Sai perché? Bufi Capitano domani All'anno No No Mi so spiegata male forse Cioè Dico solo che ci sono un po' Anche lì Premesse di amicizia un po' sbagliate Se succedono delle cose brutte No? Una minima Sì Sì La mettiamo giù Nel senso Non ho la paranoia Mai Cioè lascerò il mio finanziato Con la mia migliore amica In una stanza per 24 ore 40 50 mila ore E non ho la paranoia Non ce l'ho Ammesso che non mi viene dei segnali Che dico morino Però Non ho la paranoia Detto ciò Non direi mai Non succederà mai Non me lo Non ci Non mi viene in mente Non sono agitata Poi ci sono amiche Di cui in questi contesti Non a livello totalitario Ma amiche In cui in questi contesti Mi fido meno Altre in cui mi fido molto di più Ci sono contesti E contesti Detto ciò Comunque Io parto dal presupposto Forse un po' pessimista Però Questa è la mia idea Che In fondo In fondo Le persone sono un po' egoiste Quindi io mi fido ciecamente Delle mie amiche Io so che le mie amiche Metteranno sempre me Al primo posto Per carità di Dio Però ritrovarsi In una situazione del genere Anch'io dico Ho l'arroganza di dire Io non lo farei mai Per carità di Dio Quindi perché devo avere L'arroganza di dire Le mie amiche lo farebbero Figurati Non lo dico Non lo penso Però ci sono delle dinamiche In cui le persone Giustamente mettono anche Le loro stesse Stesse a primo posto E quindi Perché io non devo pensare Che le mie amiche Potrebbero farlo Spero di no Viva le mie amiche Però No ma anche perché amore Non lo faremo mai No amore ma lo so Però comunque Può succedere ragazze Cioè può succedere purtroppo Cioè questo tema Perché può succedere Ci sono in male sentimenti Le emozioni Sapete L'uomo comunque È un uomo È una persona Complicata Allora abbiamo un attimo Mi sa Accelerare Qua la situazione No no ma Tutto controllo Hai ben capito? Sì Io sono serena Da morire Io da morire Giuro Perfetto Vabbè quindi Poi la tua amica Ti tradisce la mattina Ti chiamiamo Perito subito Diciamo che Purtroppo Obitorio Sì Cambio opinione Sulla persona Che tradisce Anche se Non sei Direttamente interessato No Per quello che dicevamo Prima No Io direi no Che avevo fatto questa domanda Un po' per fare un recap No no Comunque abbiamo Cioè la vita è una Abbiamo tante possibilità Di cambiare Diamoci chance Ma poi è sbagliato Giudicare Una persona Non sai mai Per una cosa Che ha fatto Comunque chi siamo noi Per giudicare Alla fine chi siamo noi Per giudicare Non me la sentire mai Di una nuova del genere Ok Questo è il tema È il post Che è il post Siamo arrivati qua E poi uno deve gestire Anche il post Perché uno può fare Il fenomeno Ah si ti trascua Sicuro Poi dopo Dopo il tradimento Comunque Se si decide Che si rimane insieme Si continua in questo rapporto Uno decide Che quindi Quella questione L'affronta L'analizza La prende La mette in un cassetto E il cassetto si chiude E rimane chiuso Ma Quindi Voi sareste in grado Realmente In un momento in cui Tu magari Vanti il rapporto Perché sei tanto innamorato Quindi è difficile dire Mando tutto All'aria All'aria Effettivamente poi A gestire quel rapporto Secondo voi Ovviamente Perché è tutto così Un po' Serenamente Di questa cosa Oppure Piuttosto dite Guarda Io non me la sento Di fare questa cosa Perché so benissimo Che è una cosa Che a me Influenzerebbe Un botto Sul nostro rapporto E mi Mi farebbe stare male Quindi preferisco Cioè non preferisco Però la cosa migliore Per me È Chiuderla Allora Premessa che Io appunto Anche come dicevo prima Capisco che le persone Possono arrivare a farlo Quindi non è che Io condanni Del tutto Il fatto di Arrivare Effettivamente A tradire Il Il tuo fidanzato O la tua fidanzata Detto ciò Per come sono fatta io Che è stata una cosa Che poi Mi è anche successa Non sarei in grado Poi Nonostante L'innamoramento Quindi diciamo L'impedimento Un po' esterno Di lasciare una persona Di vivermi poi Il post relazione In modo sereno Cioè io so Di non avere un carattere Con il quale posso dire Ok ci lasciamo tutto questo Alle spalle Cioè sono troppo rancorosa E la fiducia Non mi ritornerà mai A quel livello lì Perciò Nonostante Potrei essere assolutamente Ancora innamorata Della persona Che mi ha tradito Io per la mia esperienza Dico Mi dispiace Sto di merda Ma purtroppo la nostra relazione Non tornerà mai ad essere sana Quindi non posso E so perché Cioè altre persone Lo potrebbero fare Io no Quindi nonostante appunto Io possa capire Che effettivamente Errare umano Può capitare Non ho un carattere Che può andare avanti Nonostante Questa macchia nera qua Allora io che invece Secondo me In questo sono un po' diversa Da Benny Nel senso che mi sento Più propensa Al perdono Forse Ma per una questione Ancora così Comunque penso Cioè io ho perdonato Però poi vabbè La cosa non è andata E a posteriori Ringrazio Dio Che sia stato così Perché comunque Ringrazio Dio di aver perdonato Di che non si fosse andata Che non fosse andata Perché per amore Sarei andata avanti Proprio Ma senza pormi neanche il dubbio Ma poi nella realtà Delle cose Nella relazione Eccetera Probabilmente Cioè È anche una cosa Che vedo Nelle persone che conosco Eccetera Secondo me Non si ricombaccia Mai bene Comunque Cioè non si può aggiustare Davvero del tutto la cosa Poi Sicuramente Ci sono dei contesti In cui Non so Si ha magari una svolta Non so come dire Cioè cambiano delle cose Per cui la relazione Ha un nuovo Capitolo Ha una nuova svolta Però se quello non succede Secondo me Per quanto tu possa perdonare Eccetera E essere una persona Appunto inclina al perdono Ti rimarrà sempre Quella cosa dentro Per cui non tornerà mai Tutto come prima Ma io penso di essere In generale Una persona inclina al perdono Semplicemente E' anche un po' Amor proprio E poi è diverso Che tu mi fai il commento No ma la forse Allora forse Allora forse Non mettiamoci insieme Non ritorniamo insieme No se io Cioè io tradisco E il mio fidanzato Mi perdona E mi dice Ti perdono Continuiamo E Suona una serata Mi stressa l'anima Perché lui è geloso Ha quel problema di fiducia No Allora se tu decidi Perdonarmi Vuol dire che perdoni anche In qualche modo Te stesso Comunque curi te stesso Nell'avere quello stato Di fiducia lì E risani Lo stato di fiducia Se tu Quello stato di fiducia Non lo risani Io Pur responsabile Dell'azione fatta Preferisco che tu Mi lasci E curi te stesso Perché a quel punto Io non ho più colpe Se tu mi decidi Di perdonare No ma infatti Io quando ero molto Oltre me stessa In questa roba Sì sì certo Io non potrei essere poi Quella chill Infatti la chill A questo punto Per te sarebbe Basta Però lo so Cioè L'ho imparato Uno che sa i vari limiti Esatto Mi rendo conto Che una cosa che non riuscirei a gestire Va benissimo Cioè nel senso ci sta Cioè vorrei anche essere quella Che dice No comunque Possiamo ripartire da zero E posso rifidarmi di te Non ce la farò mai No no Ma io ti dico appunto Io l'ho fatto Ma non Ci riprovi Sì però poi È anche frustrante Per l'altra persona Perché secondo me Non lo fai mai fino in fondo Nel senso che poi Ogni volta che Non so Scatta la litigata Eccetera Tu Veramente puoi essere La persona meno rancorosa Del mondo E tutto quanto E io appunto Lo vedo su me stessa Sempre ritirai fuori Quella cosa lì Cioè alla fine È la cosa che ti ha fatto più male Per cui nel momento in cui State litigando Viene fuori Sempre Ed è il motivo Secondo me Principale Per cui non si riaggiustano Davvero le cose Sì 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 Beh allora Una riflessione Un po' strana Che avevamo fatto insieme Che è una domanda È Allora cerco di spiegarla Come l'ho spiegata Anila ieri Tutti noi Nelle relazioni Di amicizia E di amore E di famiglia Abbiamo Siamo portati Ad avere fiducia Nei confronti Dell'altra persona La fiducia Non è determinata A mio avviso Soltanto dalla persona Con cui tu ti rapporti Ma è determinata Anche da come sei stato fatto tu E dai traumi che hai vissuto Da come sei automaticamente Portato ad avere fiducia Quindi noi tutti Nella vita Notiamo che spesso Ci sono persone Che danno estremamente Troppa fiducia A persone che non se la meritano Danno troppa Poca fiducia A persone che invece Se la meriterebbero E danno anche Il giusto valore di fiducia Secondo delle persone Che si trovano davanti Questa è la premessa La mia domanda è Metaforicamente Cerchiamo di dare Un valore numerico Che è il valore più facile Da dare Perché non facciamo Cioè è inutile Di dare il pecore Diamo un valore numerico Che è più facile Qual è secondo voi Il da 1 a 10 Il valore di fiducia Per cui un rapporto Di qualsiasi tipo Può sussistere Vi faccio un esempio A mio avviso Se voi mi chiedete Per ogni persona Con cui mi relaziono Costantemente E quotidianamente Nella mia vita Il valore di fiducia Quel valore di fiducia Se queste persone Sono persone che vivono Con me Non sarà mai Sotto il 7 Perché cosa vuol dire Che se io in un momento E i valori cambia Nella vita Io posso avere Le fiducia con te Un giorno 9 Un giorno 8 Un giorno addirittura 7 Ma difficilmente Andrà mai sotto il 7 Perché Perché allora vuol dire Che O quella persona Non ti dà abbastanza fiducia In quel momento lì E quindi Tu di conseguenza Non riesci a dare fiducia Oppure In quel momento lì Tu non sei una persona In grado Di dare fiducia A persone Tipo Tipo Una relazione Che tu perdono In tradimento E dopo Quel tradimento Tu decidi di perdonarla E ti chiedo Quanto ti fidi però Del tuo fidanzato O della tua fidanzata E tu mi rispondi No 5 Anche se l'ho perdonato Eh no Allora vuol dire Che tu Non si sei autocurato Non hai capito E il tuo valore di fiducia Non può essere 5 Perché Partendo dal presupposto Che ovviamente Per me la fiducia È alla base del rapporto Ah certo Quindi qual è secondo voi Quel valore numerico Per cui Il rapporto esiste Io dico 7 8 Secondo me Cioè appunto Per come io ho vissuto Determine altre situazioni Mi sono resa conto Che in realtà Questo problema Di mancanza di fiducia Era poi Fonte di tantissimi Altri problemi Che avevo quotidianamente Nel relazionarmi Con le persone In generale Personali La sicela Si alza molto di più Cioè nel senso Per me È un Direi 8-9 Detto ciò Il momento In cui Mi sono resa conto Effettivamente Che Spesso Le insicurezze Che avevo Nei confronti degli altri Non erano dovute A dei problemi Delle mancanze loro Ma a un problema Di fiducia mio O anche Sono molto in grado Di ridimensionare Questa cosa Però con questa promessa Per me La fiducia è sempre Capisci che quello Che tu necessiti Non d'accordo È tanto alto Poi per il resto Anche Vabbè Però quello per me Appunto perché È la cosa che dicevo Prima del mio limite Cioè È un mio grande limite Quindi Non so che Nel momento in cui Manca quello Tantissime altre cose Possono scaturire Quindi non Ci sta Tu? Io Non lo so Anch'io direi sette Perché Sei mi sembra Veramente la sufficienza Cioè È davvero ridicolo Cioè Non è reale Però D'altra parte Mi rendo conto Cioè Che io personalmente Non pretendo Cioè Mi verrebbe da dire otto Però non da tutti Pretendo l'otto Perché non Cioè Ci sono proprio Delle piccole cose Che cambiano Il rapporto Per cui Non posso Cioè otto Mi sembra Anzi troppo alto Però vorrei Cioè il mio Sicuramente augurio A tutte noi Che il minimo Sia otto Però ci sta Che sia sette Io sono monta Con quel decitù Nel senso che io Non ho la partenza Così alta Da poche persone Ho la partenza Molto alta Ovviamente poche Ma la questione Che non è tanto fiducia Ma la questione È un po' Anche di rispetto Penso che Se mi rispetti A prescindere Non lo fai Ho detto Ciò Sì Non voglio fare Quella fiducia A dieci Cioè capito Non mi tradisci mai No Assolutamente Perché io Sono una che perdono Assolutamente Cioè Direi che sono una che perdono Non ho mai avuto Non mi è mai successo Una roba così Sbatti A dire Eh Però Io penso di perdonare Anche perché comunque Cioè Io in primis Faccio tanti errori Secondo me Proprio di impulsività Perché sono molto impulsiva E mi rendo conto Di quanto poi Io mi reputo Una persona comunque Di valori E quanto Alcune cose Non determinano una persona Quindi comunque Non me la sentire mai Di dire Ah se tu fai un errore Ci sono le persone Che dicono Sto fai un errore E per me Sei caputo No Zero No Non anch'io Zero Poi dipende Dopo come ti comporti Quindi non ti dico Un numero enorme Ti dico Sette Anch'io Ci sta Ci sta Vabbè Fare l'ultima domanda Eh Sì Però sono Siamo Ma dividiamo Ma possiamo farlo Certo Ah ok Quindi tu dici L'avevo già in mente Rapporto con i genitori Sì Ok No era l'ultima No sì 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 La so perché Non lo devo capire Allora c'è questo tema Molto ampio Del Che Di quanto Il tradimento A livello generazione Secondo Allora rifaccio Il tradimento Dipende molto Alcuni pensano Che il tradimento Dipende molto Da generazioni Quindi la nostra generazione Aspetto a quella Degli nostri genitori Il tradimento Veniva vissuto E Sì vissuto E interpretato In maniera molto diversa Dipende Nel senso che È una cosa Sicuramente Molto soggettiva Perché comunque Dipende da persona a persona Più che da generazione A generazione A mio parere Però il discorso Che facevamo un po' Era anche il fatto Che Forse Un tempo Se ne parlava di meno Perché magari Anche il rapporto All'interno della famiglia Era molto più rigido Quindi il rapporto Con i genitori Era molto più rigido Cioè io mi immagino Dai racconti Dei miei genitori Con i miei nonni Che era molto severo Io ora Mia mamma e mio papà Benché comunque ci sia Sostrista un rapporto Di Comunque Padre madre Con i figli Comunque In ogni caso C'è tanta comunicazione Tanto Cioè si parla Tanto di un sacco di cose E anche penso Stati loro Quindi parlando tanto Il discorso è Secondo voi C'è questa differenza Generazionale Nell'interpretare Un tradimento Per me no Per me sì Allora Io parlo soggettivamente Appunto dai racconti Ma in realtà Non ho neanche mai fatto Forse direttamente Questa domanda Ai miei genitori Però Indirettamente Il mio percepito È stato appunto E parlando anche Con una nostra amica Anche lei Ha questo percepito Che ai loro tempi Che poi ai loro tempi Sembra di 80 anni fa Comunque Fosse un po' più Leggero come tema O almeno Non che fosse più leggero Però Era meno Si era meno Non rigidi Non so bene Che termine usare Però Forse se ne parlava Proprio meno Cioè ha ragione Nina A dire proprio Era una questione Per noi è una questione Cioè noi Di questa cosa Come ne stiamo parlando ora In questa puntata Ne parliamo davvero spesso Mentre Mi è sembrato appunto Di capire Che ai loro tempi No E secondo me Anche una questione Importante È il fatto che Non ci fossero I telefoni Cioè per me Fa tantissimo Questa cosa Perché Che anche un po' Si parla anche Della questione Meglio sapere O non sapere Cioè secondo me Prima che ci fossero I telefoni Per cui noi abbiamo Dei mezzi Con cui è più facile In qualche modo Scoprire le cose Il fatto di non averli Era molto più facile Tenere nascoste O comunque Neanche immaginarle Capito Non saprei esattamente Poi quale sia La differenza Sostanziale Però mi sembra Che appunto Loro Se ne parlasse meno Probabilmente Perché si scopriva Cioè nella mia testa Questo è dato dal fatto Che si scoprisse meno O comunque Che fosse meno comune No non meno comune Che fosse meno comune Saperlo Non so Ho più Questo immaginario Però appunto Ripeto Non so se sia la verità No allora Io non ho idea La verità Quello che ho detto io Prima io no Cioè secondo me Io non ho idea Delle robe generazionali Cioè probabilmente Al passato Trovavi delle situazioni Ancora più tragiche Di una famiglia Molto più fredda Molto più distaccata Dei genitori Che magari Si tradivano anche A vicenda Ma il padre Era una persona Molto più autoritaria Cosa che Sicuramente Sono anche in tante famiglie Così adesso Però molto meno Quindi Sono dinamiche In cui io non vorrei Entrare Io entrerei Piuttosto Cercando di trovare Un filo rosso Alla cosa In una dinamica Secondo cui Ciao Marco In una dinamica Secondo cui Il genitore Allora la premessa È che So Che qualsiasi tipo Di nostro problema Quasi tutti Derivano Neanche dal padre Ma dalla madre Comunque dai genitori Quindi Io parlerei Piuttosto di come Effettivamente Il nostro rapporto Con le relazioni E quindi Questo tema Il tradimento Derivino dai genitori Capito cosa intendo? Certo certo Cioè il ruolo Che hanno i genitori Nella nostra vita Nel nostro modo di pensare Le relazioni Quello secondo me È un argomento Determinante Sul punto di vista Generazionale Alzo le mani Perché io non lo so E sinceramente A primo impatto Mi viene da dire Di no Cioè nel senso Che Non trovo Che ci siano stati Degli eventi Così Determinanti Che abbiano fatto sì Che appunto Queste cose Cambiassero in modo Così radicale L'unica cosa Che una minima Mi è venuta in mente Adesso Mentre parlavate voi È stato Il pensare Che Banalmente Ai tempi Dei nostri genitori Quando si dovevano Diciamo Sposare loro Sposarsi Era molto più Un must E Si faceva anche Molto prima Rispetto a quello Che fanno adesso Quindi mi viene da dire Magari la gente Si sposava prima Bruciava un po' più le tappe Faceva un po' tutto Più di fretta Quindi magari Si vivono Conseguentemente Anche tutte le parti Dopo della relazione Anche con figli Eccetera Perché non c'entra niente Che ci siano figli o no In modo diverso L'unica cosa Che mi viene da dire Mentre ora Siamo tutti un po' più free Un po' più liberi Un po' più così E quindi ovviamente Si vive in modo diverso Però per il resto Secondo me È una cosa Che c'è anche All'interno Della mia famiglia È sempre stata trattata In un modo che Io non ho visto Essere eccessivamente Contaminato Da generazioni Da momenti storici Da periodi Che sono stati vissuti In un determinato modo Cioè No Secondo me no Anche io sono d'accordo Nel senso che comunque È un discorso Molto di Cioè Rimanerci Per tutto personale Che L'uomo primitivo Nel 9 Nel 2024 Comunque ci rimane di merda Perché è un cazzo Tradimento E uno ci rimane di merda E poi comunque Nel matrimonio Sì Poi c'è anche Tutta questione Di divorzio Che era una questione storica Che adesso Non ci addentriamo Assolutamente Però Secondo me Il discorso Dei genitori È molto vero Io comunque Vedendo anche Amicizie Persone di fianco Che hanno situazioni familiari Differenti Alla mia Mi rendo conto Che la mia percezione Di cosa vuol dire Una coppia Un rapporto E di quello che può essere È molto differente Dalle altre mie amiche O amici Che hanno situazioni Molto diverse Ed evidentemente Non che la mia Sa migliore O peggiore Perché magari la mia Che ho una situazione Molto serena Molto tranquilla Magari Mi rende più leggera Più serena Quindi mi rende Intrasigente Quindi più propensa A fare Determinati tipi di cose Rispetto magari Alcune che hanno avuto Traumi in famiglia Quindi poi sono Molto più stricte Perché hanno paura D'altra parte Poi ti dico anche Io però sono anche Molto abituata A quella cosa lì In famiglia Di Molo bianco Che non esiste Ovviamente Perché non esiste Però Dell'amore Abbastanza puro Sereno Così Eccetera E quindi poi A quel punto Ricerco quella cosa lì E andare a ricercare Quella cosa lì Ho un tipo di relazione Diversa con le persone Non lo so Probabilmente sì Sicuramente La situazione familiare Perché ci cresci Ci vivi È molto differente Molto Appunto Dipende molto Da persona a persona Ma infatti Mi hai fatto venire in mente Che tutto il discorso Che ho fatto prima Che ripeto appunto Non so neanche Se sia una cosa generazionale Perché forse Parlare di generazioni È troppo ampio Nella mia testa Ha un fine Perché Secondo me Il fatto appunto Che noi magari Abbiamo questo rapporto Come dicevi tu Con più comunicazione Magari rispetto a quello Che nel nostro immaginario Era Prima Con i nostri genitori Fa sì che appunto Noi parliamo di più Di questi temi Perché sono meno un tabù E c'è più trasparenza Magari in queste cose Che è anche il fatto appunto Di sapere di più Beh io direi che adesso Concludiamo la puntata Io volevo aggiungere Che Secondo me Sono cose Determinanti Nella vita Di una persona Nel senso che Sono persone I genitori Sono persone Che tu prendi Per sempre Come esempio E sono persone Anche di cui Automaticamente Tu ti devi fidare Ok Quindi Nasciamo tutti quanti Con quel preconcetto lì E quando poi Il genitore Tradisce te Allora O comunque Tu ti senti Tradito a questa cosa O comunque Ci sono delle dinamiche Familiari Per cui scopri Le cose eccetera È ovvio Che è una cosa Che ti traumatizza Che tipo È ovvio Cioè per forza Tu avrai una concezione Completamente corrotta Della realtà dopo Ma perché Sono le uniche persone Che tu dici Cacchio Io vi aspetto Da tutti Che mi tradiscano Però I miei genitori No Quindi credo Che la dinamica Con i genitori Ma questo è uno studio Penso veramente Psichiatrico Psicologico Secondo cui Tutto ciò Che i tuoi genitori Ti insegnano Le relazioni di amore E in tutto Ma in questo caso Le relazioni d'amore È determinante In come poi Tu ti comporterai Nella tua vita Non vuol dire Che una persona Che vive Come dicevi tu Esatto Una persona che vive In una famiglia Prototipo Del mulino bianco Anche se non esistono Ma una famiglia serena E tranquilla Allora sarà portata Ad essere una persona buona Piuttosto che una persona Che vive Non è quello E non è neanche Che una persona Che tradisce Vuol dire che In qualche modo La famiglia No Però I tuoi preconcetti Le tue cose Il modo di viverti Le relazioni umane Sono per forza Determinate Nel modo In cui i tuoi genitori Si sono relazionati Uno con l'altro E come si sono relazionati Con un certo Ma l'ambiente È determinante Cioè che siano amici Famigli Di amarenti Chiunque Si determina la vita Quindi ogni cosa che fai Comunque qualcuno ti segna Nel bene e nel male Perché poi dipende Come uno riesce A gestire i propri errori E le proprie esperienze Se la affronti Non la affronti Se prendi come Tutto ne fai oro E dici figata Tanto che Secondo me Siamo tutti estremamente Vulnerabili In particolare Riguardo a Il nucleo familiare Cioè La classica cosa Che se io insulto Mia madre Mio padre Mio fratello Mio sorella Lo posso insultare Se però tu poi Incarni la dose Ti ammazza O Vittorio Stai sbagliando O Vittorio Oggi si torna sempre All'O Vittorio Insieme all'amica Che mi ha tradito E una amica Ieri mi ha detto Pure sul suo cane Mi fa Loro possono Io posso insultarla Quanto vogliono Quando lo fa qualcun altro Certo Tu esci da casa mia Certo Giusto Va bene Allora concludiamo È stata una puntata lunga Che voi penso Che vedrete divisa due Sì Mi permetto di dire questa cosa Perché se no È un film Di Non so chi Esatto Quindi state vedendo La seconda parte Nella puntata Tra l'adimento fiducia In ogni caso vi salutiamo Vi mandiamo un grande abbraccio È sempre bello sapere Che ci ascoltate Ci seguite Noi abbiamo detto Le nostre opinioni Ma Siamo noi per giudicare Non sentenziamo Non sentenziamo Giuro E alla fine Chi siamo noi per giudicare E mettiamoci le corna In tutti i sensi Dai Dai Ciao raga Un bacio Grazie Ciao Grazie Nenni Grazie Penny Grazie a voi Non tradite Dai per favore Dai raga Non vale la pena Grazie a voi